E' incredibile che un governo che dura da appena nove mesi sia in effetti considerato un governo duraturo, diceva prima Claudio Cerasa. Io penso che tutto sommato di importante ci siano due cose, poi avremo modo in questa chiacchierata forse di raccontarne altre. La prima è che un governo che nasce da un trauma, perché il governo nasce da una sconfitta, la sconfitta del referendum, le dimissioni di Matteo Renzi, è riuscito nonostante tutto ad andare avanti per questi nove mesi. E questa, io credo, sia una prova di forza e di capacità di governo del Partito Democratico, oltre che di chi di questo governo ha fatto parte. La seconda cosa che direi è che il governo è come andato materializzando il suo lavoro nel corso dei mesi. È partito con obiettivamente poche scommesse, quanta gente scommetteva su questo governo, perché nasceva in una condizione difficile. Col passare dei mesi ha dimostrato, grazie alle capacità del nostro partito, dei ministri, alla tenuta del sistema, ha dimostrato di avere un senso. E dal mio punto di vista questo è stato forse il risultato più importante. Noi avevamo bisogno di dare al Paese la sicurezza che un governo poteva garantire la sua stabilità. Non fosse altro che per questo io credo che abbiamo fatto con dignità il nostro dovere. Grazie.